FRI NATAL, NUOVA GENERAZIONE Cosa potremmo fare di Maria? Prendere l'acqua in mano non si può Chi ci saprà spiegare chi è Maria? Scriverò al comandante Fondrat di aspettarti domani Ti piacciono i bambini? Lidl! Friedl! Beh, più che di sette bambini si trattava di sette soldatini Maria decise di trasformare quel piccolo esercito in una banda scatenata di bambini felici Per i grandi classici, tutti insieme appassionatamente Stasera, alle 20 e 30, su Rete4 Magalli! Signora! Quanti piatti si possono sgrassare con 50 lire di Nelson? Dieci Dieci, dice lei Queste sono esattamente 50 lire di Nelson E questi sono i piatti Bella schiuma 30, già questi sono il triplo di quelli che lei L'ho detto io Quanti sono in totale? 60 Provi a lavare questo È molto unto ma viene via È proprio buono Si risparmia tantirsi Nelson Lava tanto, lava bene Per questo conviene Specchio specchio dei sogni più belli Aiutami a far splendidi i capelli Vitaoil bagno d'olio in pacco in fiare Darà loro splendore eccezionale Lavar con l'olio Questa è la magia È un olio che con l'acqua viene via Ma nei capelli tuoi penetra a fondo E dona uno splendore unico al mondo Convinta ora Adesso non saprei Su prova Vitaoil bilba di cadei Oh splendido Fantastico Perfetto Vitaoil bilba Te l'avevo detto Non shampoo Vitaoil E i tuoi capelli Saran puliti Luminosi E belli Bonjour Bomberk Il buon prezzo Fa allegria Come si sta bene mamma Blu le mille bolle blu Blu le vedo intorno a me Blu le mille bolle blu Che volano Che volano Che volano Blu le mille bolle blu Blu mi sento intorno a me Blu sia mille bolle blu Che danzano Felce azzurra Paglieri Da sempre I tuoi momenti azzurri Come si sta bene mamma Nonno è spuntata La natura cresce grazie al tuo amore Come nella valle degli orti Dove uomini esperti coltivano la terra con lo stesso amore E ogni verdura cresce sana Per il nostro buon minestrone Nonno Lo portiamo nella valle Minestrone alla valle degli orti L'amore per la terra dà solo buoni frutti La leggerezza equilibrata La trovi dove si esagera con il grande Le fette biscottate a mulino bianco Chi mangia sano Trova la natura Anche a Venezia Ma dai davvero E poi cosa ti ha detto? Ma no ti ha chiamato signorina Fantastico Lo vedi che i miei consigli funzionano Guarda che io lo sapevo È tutta una questione di pelle Ma certo signorina Ma sì che c'è tutta una linea cupra Devi solo provarla Linea cupra Principi naturali Contro i segni del tempo E i risultati si vedono Mio marito ha un tremendo raffreddore Sì gli serve qualcosa per il noto chiuso E anche per la tosse E qualcos'altro per il mal di testa E anche per i dolori alle ossa Cosa? Un solo prodotto Vicks Midnight Sedativo della tosse analgesico decongestionante Proprio quello che ci serve Vicks Midnight Allevi i principali sintomi del raffreddore e dell'influenza Per darvi una tranquilla notte di riposo Vicks Midnight Buonanotte raffreddore È un medicinale che può indurre sonnolenza Leggere attentamente il foglio illustrativo Che disastro il calcare Mo ci sono qua io Drago Una bestia contro il calcare Le incrostazioni le spago in quattro Parola di Drago Sì ma è queste macchiacce d'acqua Sorbole Io le scancello con un colpo di spugna E il calcare sulle piastrelle? Mo glielo faccio vedere Dove passo io? Hai uno splendore da occhiali del sole Drago Pulisan È una bestia contro il calcare Forse non ti piaccio abbastanza Forse è tutta colpa mia Tabù Da Rete 105 La soluzione per i vostri dubbi sul sesso In edicola con la prima uscita Un volume e un'audiocassetta Con le risposte del professor Maurizio Bossi Fabri Editori Bastava parlarne Tè in frede È buono qui È buono qui Tè in frede Tè in nato Solo il piacere del tè Starco Senti cara Dice lui Mi faresti un risottino alla milanese? Ma poi qualcuno dice Mamma Ho tanta voglia di verdure Mamma Ehi Dimmi che stai facendo urli Sui gamberetti Dai dimmelo Da Star i piatti del giorno Le buone ricette della nostra tradizione Per portare a tavola ogni giorno Un grande piatto Ho fatto trissi Ma per avere tutte e tre I piatti del giorno Star Tutti buoni Tutti i giorni Star è sempre con me E un risotto dopo l'altro È subito raccoltissima Questa è la casa degli sposi Signor Megacci Che sorpresa Salve ragazzi Come va? Sono passati tre mesi E sono tornato a trovarvi Ditemi C'è qualche novità? L'unica novità è in cucina La novità in cucina? Caspita Ma questa è una lavatrice Filco Ottima scelta Può dirlo forte signor Megacci Io ne vedo tante Ma questa è proprio indistruttibile E poi Ha cinque anni di garanzia Forse voi non lo sapete Ma anche vostra moglie Aspetta un Filco Filco Una volta È per sempre Fri Natale Nuova generazione Cosa potremmo fare di Maria? Prendere l'acqua in mano non si può Chi ci saprà spiegare chi è Maria? Scriverò al comandante Fontrat Di aspettarti domani Ti piacciono i bambini? Lidl Fried Beh, più che di sette bambini Si trattava di sette soldatini Maria decise di trasformare Quel piccolo esercito In una banda scatenata Di bambini felici Per i grandi classici Tutti insieme appassionatamente Stasera Alle 20 e 30 Su Rete 4 Durante una partita Vedi involontariamente Le carte di un amico Niente male Ma le tue sono meglio Che cosa fai? Ne approfitti O butti via una mano vincente Ci sono scelte che dimostrano carattere Johnny Walker Il whisky con più carattere Sei cresciuto Ti è diventata piccola In ogni famiglia ci sono capi che si amano E si vorrebbero passare dal più grande al più piccolo Con il tempo però le fibre si rovinano Oggi Coccolino ha una formula nuova Più fluida Che va oltre la morbidezza Penetra meglio nei tessuti E li mantiene come nuovi nel tempo Da fratello a fratellino Da fratellino a sorellino Tu sei piccola ma diventerai grande Nuovo Coccolino Capi morbidi e protetti più a lungo Pensate a tutte le ragioni per cui scegliereste una Station Wagon Adesso pensate a qualcosa di più Qualcosa di molto personale Poi salite su nuova Rover Tourer La Personal Wagon Potresti aprirmela? Ma che aspirapolvere? Siemens Ah Siemens Sì che Siemens Più gustavo di burgui Ma Marco lo sa? Figurati di sesso non parliamo mai Allora qualcosa per voi Tabù Darete 105 la soluzione per i vostri dubbi sul sesso In edicola con la prima uscita Un volume e un'audiocassetta Con le risposte del professor Maurizio Bossi Fabri Editori Marco Ti devo parlare Fino a 186 cavalli Scocca rinforzata Airbag di serie Interni in Alcantara Dal comfort allo stile alla performance Lancia Delta Sulle strade del Gran Turismo Volevate disegnare qualcosa? È un regalo Max Collection EP Vieni a prendermi all'IP Potresti aprirmela? Ma che aspirapolvere? Siemens Ah Siemens Sì che Siemens Mitsubishi Pajero Per passione Mitsubishi Space Vagon Per amore Mitsubishi Space Runner Per piacere Ciao Allora com'è andato l'esame? Ottica Benone E questi papà? Occhiali da presbite Presi in farmacia a 38 mila lire Corpo 8 Vediamo Lenti infrangibili Materiali analergici Centri focali allineati Diottrie controllate Belli Eh sì la qualità si vede subito Ci sono anche per me Certo Corpo 8 Gli occhiali da lettura In farmacia In nove modelli Per lui e per lei Garantisce Angelini Più gusto di burghier Messo no Messo no Ti dà Mammina stavolta è andata a te È pulita Adesso uso Dick Sun E perché non l'hai fatto prima? È per risparmiare Ma adesso che c'è la ricarica Se non l'usassi Sarei proprio una Come mammina Perdonala Dick Sun Campione di risparmio Potresti aprirmela? Ma che aspirapolvere? Siemens Ah Siemens Sì che Siemens Il guai Hollywood È che tutti vogliono fare cinema Ehi Volete fare un film? Sì Avete proprio quello che serve Stop Facciamo i primi piani ora Con le attrici vere Dare a quelle due la 106 Preferisco morire No Bajou 106 Il tuo modo di essere Da 14 milioni 500 mila lire C'è ciò Tio Viglio Insegnante Una vita monotona Passata tra una classe indisciplinata Una fidanzata noiosa Ed una dieta a base di carote Ma solo prima che arrivasse lui Sono tuo fratello Raffaele Ciao pistola Ora però video È l'inizio di una nuova vita Tra dolci avventure Qualche guaio E tanto divertimento Renato Pozzetto E Renato Pozzetto In È arrivato mio fratello Mercoledì Alle 20 e 35 Su Rete 4 Bastano pochi secondi Per passare da 0 a 100 Ma provate senza fretta Il piacere di guidare la nuova Audi A4 Il design La meccanica La sicurezza Vi sentirete in anticipo Anche quando ritardate Nuova Audi A4 La velocità Senza la fretta Con Icaro Doria Siete in buone mani Anche con la nuova confezione Da 250 grammi Bella figura Mi hai fatto fare ieri sera Ho qualcosa per te Tabù Da Rete 105 La soluzione per i vostri dubbi sul sesso In edicola con la prima uscita Un volume e un'audiocassetta Con le risposte del professor Maurizio Bossi Fabri Editori Oh Pronti per stasera eh Pralina Ricoperto Croccantino Cremino Fondente Senza zucchero Senza zucchero Senza zucchero Lineurel Meno calorie del cioccolato Che gusto avrai Lineurel? Che gusto? Mmm Buono Buonissimo Eccezionale E c'è anche Lineurel Fondente Finalmente una bella notizia Una bella notizia Lineurel Senza zucchero Ciao Allora com'è andato l'esame? Ottica? Venone E questi papà? Occhiali da preside Presi in farmacia a 38 mila lire Corpo 8 Vediamo Lenti infrancibili Materiali amallergici Centri focali allineati Diotrie controllate Belli? Eh sì, la qualità si vede subito Ci sono anche per me Certo Corpo 8 Gli occhiali da lettura In farmacia I nove modelli Per lui e per lei Garantisce Angelini Cosa potremmo fare di Maria? Prendere l'acqua in mano Non si può Chi ci saprà spiegare Chi è Maria? Scriverò al comandante Fondratto Di aspettarti domani Ti piacciono i bambini, no? Lidl Fred Beh, più che di sette bambini Si trattava di sette soldatini Maria decise di trasformare Quel piccolo esercito In una banda scatenata Di bambini felici Per i grandi classici Tutti insieme appassionatamente Stasera Alle 20 e 30 Su Rete 4 Nuovo Renault Trafico Carico di Comfort Ma dai, davvero? E poi cosa ti ha detto? Ma no, ti ha chiamato signorina Fantastico Lo vedi che i miei consigli funzionano? Guarda che io lo sapevo È tutta una questione di pelle Ma certo signorina Ma sì che c'è tutta una linea cupra E di solo provare Linea cupra Principi naturali Contro i segni del tempo E i risultati si vedono Il più amato Seguito Copiato Ogni mercoledì in edicola Con nuove storie Servizi Curiosità Questa settimana Topolino presenta Missione topoplani Non è arrivato Vedo il vedo Missione compiuta Ecco i topoplani Dall'11 gennaio Topolino ti regala i 4 coloratissimi aeroplanini da collezionare Vola in edicola I topoplani ti aspettano Forse non ti piaccio abbastanza Forse è tutta colpa mia Tabù Darete 105 la soluzione per i vostri dubbi sul sesso In edicola con la prima uscita Un volume e un'audiocassetta Con le risposte del professor Maurizio Bossi Fabri Editori Bastava parlarne Avete mai visto due che si baciano così in un autogreen? Ma qui è sporco però Anno nuovo Y10 nuova Nuovi i colori Nuovi gli interni E poi fino al 31 gennaio Y10 vi offre un risparmio di un milione e mezzo E già oggi La certezza di un valore garantito Per scegliere entro due anni Una nuova lancia Nuova Y10 Il suo valore è un punto fermo Di un valore è un punto fermo E poi Il suo valore è un punto fermo Mamma, torniamo a casa stasera Fuori, fuori Oh no Pronto legno pulito con sapone e detergente Pulisce e rispetta le superfici in legno È quello che ci vuole Pronto legno pulito Il primo detergente specifico per il legno Ideale per pulire a fondo senza risciacquare Sempre da sola, povera mamma Pronto legno pulito La pulizia che cura il legno Come si sta bene, mamma Brulle, mille, bolle, blu Brulle, vero intorno a me Brulle, mille, bolle, blu Che volano, che volano, che volano Brulle, mille, bolle, blu Brulle, mi sento Tondo la blu Sia mille, bolle, blu Che danzano Felce azzurra paglieri Da sempre i tuoi momenti azzurri Come si sta bene, mamma Se hai preso freddo Ci vuole qualcosa di caldo Ma che funzioni davvero Quando sta arrivando l'influenza Subito bronchenolo antiflu Con l'efficacia di paracetamolo e vitamina C Agisce presto Senza di norma disturbare lo stomaco Così torni a far bene Se hai preso freddo Prendi bronchenolo antiflu Leggera attentamente il foglio illustrativo Sotto i 12 anni è necessaria la prestazione medica Mentre ti lavi Bionsen restituisce alla pelle Vitalità, tono, elasticità Grazie all'azione degli oligominerali termali giapponesi La tua pelle si rigenera E ritrova il suo naturale equilibrio Nuova linea Bionsen agli oligominerali termali giapponesi Rinasci da Bionsen Nuovi Renault Trafic ed Express Carichi di comfort Su Rete 4 tutte le sere alle 22 e 30 Gli indimenticati Lunedì il sacrificio più grande per Loren Bacal Un dono d'amore Robert Stuck Martedì un affascinante lana Turner indiana La cortigiana In compagnia di un giovanissimo Roger Moore Mercoledì il delitto della signora Ellerson Con Susan Hayward e Peter Finch Giovedì l'indimenticabile Mary M. Monroe Nell'indimenticabile Nia Gara Venerdì Paul Newman, John Woodward, Orson Welles Vivono la loro lunga estate calda Sabato continua la saga del pianeta delle scimmie Con l'altra faccia del pianeta delle scimmie Tutte le sere alle 22 e 30 Gli indimenticabili Su Rete 4 Nell'indimenticabile Nia Gara